Build in Italy, l'Italia che abiteremo, è un incontro organizzato da Remind, portavoce dell'immobiliare allargato ai settori produttivi della mazione. L'Italia si trova ad affrontare sfide importanti, legate soprattutto alla sostenibilità ambientale e all'implementazione di nuove tecnologie all'interno del complesso processo di trasformazione e degli stili di vita, per il benessere e la sicurezza delle persone, nei luoghi, spazi, territori e città in cui vivono, operano e transitano. In risposta a queste sfide emerge sempre più l'importanza di adottare un approccio integrato che consideri congiuntamente tre pilastri fondamentali dell'economia, l'immobiliare, le infrastrutture e di trasporti. Insieme alle istituzioni è fondamentale portare avanti una visione di sistema che sappia riconoscere la necessità di un approccio sostenibile ed innovativo, sempre accompagnato da un forte spirito di pragmatismo e di discernimento. Insieme a istituzioni e settori produttivi dell'immobiliare allargato, lavoriamo per realizzare il Piano Nazionale per la Sicurezza e la Sostenibilità promosso da Remind. Siamo i luoghi che abitiamo.